Papa Francesco al termine dell'Angelus parla della missione Apollo 11, 50 anni fa l'uomo mise piede sulla luna e il ricordo di quel grande passo per l'umanità accenda il desiderio di traguardi ancora maggiori, più dignità ai deboli, più giustizia tra i popoli, più futuro per la nostra casa comune, questo l'augurio del Papa.